L'aeroporto di Salerno torna a far parlare di sé. In una nota la Confederazione Nazionale Lavoratori della Campania ha sollecitato il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a dare risposte ai lavoratori e al territorio a proposito degli interventi programmati allo scalo. Il cronoprogramma del Costa d'Amalfi prevede la fine dei lavori entro il 2024, ma per i rappresentanti sindacali il cantiere di Salerno è fermo ormai da troppo tempo. Tempo indietro chiedemmo direttamente al Presidente De Luca chiarimenti su una situazione di blocco dei lavori. Nell'incertezza del blocco e nell'incertezza del mancato sviluppo di un asset economico nonché industriale della nostra Regione era doveroso chiedere al Presidente chiarimenti sulla questione. Sono passati mesi, ad oggi non c'è stata alcuna risposta e sembra che a tutt'oggi non ci sia una chiara visione e un chiarimento su come e quando aprirà all'aeroporto di Salerno. Sono un toglie che ripetiamo che la nostra preoccupazione è perdere un'opportunità di sviluppo occupazionale e industriale per una Regione come la Campania che ne ha enormemente bisogno soprattutto in questo periodo.